Per commentare la sentenza aspettiamo di leggere le motivazioni, ma intanto non posso che dire tutta la mia soddisfazione per l'esito per Mario Lucini. A dirlo è Andrea Panzeri, avvocato difensore dell'ex sindaco. È una persona che ho imparato a conoscere in questi anni ed è di alto profilo sotto l'aspetto etico, dice Panzeri. So quanto abbia sofferto in questi anni e come oggi abbia provato sollievo nel sentire la pronuncia della Corte d'Appello. Il ricordo va anche al legale Ernesto Lanni, che aveva assistito Mario Lucini dall'inizio dell'indagine, scociata oggi nella sentenza di secondo grado. Soddisfazione anche per Elisabetta Di Matteo, avvocato difensore di Antonio Viola. Con la sentenza della Corte d'Appello Meneghina si auspica che venga messa la parola fine a un'annosa vicenda processuale, dice. L'ingegner Viola, che per i capi di imputazione riguardanti le paratie era già stato assolto in primo grado, con questa sentenza ostiene la completa riabilitazione processuale. Venendo mandato assolto anche per l'ipotesi corruttiva riguardante Salita Peltrera e peraltro con la formula più ampia, perché il fatto non sussiste. Nulla dovrà il comune di Comone, pure a titolo di risarcimento del danno. Non nascondo che la soddisfazione professionale è massima, anche perché, come per tutti i processi, non bisogna dimenticare che l'imputato, che sa di essere innocente, vive la vicenda processuale con lo stravolgimento della propria vita privata e professionale. È un epilogo importante, dice invece Luisa Scarrone, difensore di Pietro Gilardoni. È una grande soddisfazione per il mio assistito e motivo davvero di restituzione di verità importante. Era stato accusato di corruzione, accusa dalla quale è stato assolto pienamente, come da tutte le contestazioni per le paratie. Ricordo che aveva all'inizio 15 capi di imputazione e una richiesta in primo grado di 9 anni e 6 mesi. Credo che si possa capire facilmente come un evento del genere possa sconvolgere la vita di una persona e dei suoi familiari. Oggi dobbiamo gioire per la verità accertata.